Ciao Massimo! Ciao Roberta! Allora, esattamente come questi sassi, anche tu negli anni 80 hai fatto centro con Sapore di Mare 2, un successone. Ma quanto ti ha condizionato il fatto di essere un bello rubacuori? Mi ha fatto fare Sapore di Mare 2, nel senso che mi scelsero e mi chiamarono proprio perché con il mio aspetto che piaceva alle fanze dei fotoromanti che facevo in quegli anni, hanno detto che questa ragazza ha un'enorme popolarità per la sua bellezza del tempo, spero anche un po'. Che è rimasta, confermo. E che ho fatto appunto Sapore di Mare, il mio secondo film. Poi dal cinema sei passato alle fiction, attualmente ti stai preparando in teatro, è il tuo nuovo amore? Mamma mia, ancora non abbiamo debuttato, sarà a dicembre, una commedia francese di Florian Zeller, Un'ora di tranquillità, con Massimo Ghini, Galatea Aranzi, Gianello, Claudio Bigagli. Sono molto emozionato perché è la prima volta che faccio teatro, è una nuova avventura. Per fortuna, l'emozione non deve mancare. E se ci fosse la moviola, tu torneresti indietro nel tempo e faresti nuovamente l'attore? Sì, perché poi mi ha permesso anche di fare tante altre cose, tra l'agricoltore, il costruttore, l'imprenditore, ultimamente persino uno scrittore. Caspita! Uomo eclettico direi. Complimenti. Grazie. Ma quale sarà stato il suo primo lavoro? E dalle risposte di Massimo Ciavara, Roberto Ferrani, si capisce che nel lavoro gli piace cambiare pelle. Benvenuto Massimo. Ciao, buongiorno a tutti. Senti, oggi a quale attività ti dedichi, insomma, con passione oltre, naturalmente, a quella di attore? Sì, ma in questo momento non ho tempo per far nulla, perché siamo in piena finale di prove per questo spettacolo teatrale. Debutteremo il 16 dicembre ad Udine, quello che dicevamo nel servizio. Ma in questo momento diciamo che in ogni caso la mia attività principale di fuori del mestiere dell'attore è un po' basata sull'isola di Lampedusa, che è un'isola che io adoro, amo, e ogni anno organizzo una rassegna cinematografica di sette giorni per portare il cinema in Lampedusa, che è priva di schermo cinematografico da più di dieci anni. Questo mi occupa durante l'anno e poi faccio anche un po' da testimonio per l'isola, per raccontare le bellezze, le verità e per attrarre più il turismo possibile. Ecco, a proposito di isola, io mi ricollego all'isola dei famosi, a Pechino Express, che tu hai partecipato diciamo ad entrambi i programmi reality, però uno come te che conosciamo essere molto schivo di carattere, che non ama mettersi in mostra, come mai poi hai fatto questa scelta di partecipare appunto a questi reali? Perché a me piacciono le avventure molto, però secondo me non è che a me non piace mettermi in mostra, non piace, come dire, interpretare, cioè non è, non piace, ce l'ho sempre fatto, esattamente, però quando mi hanno offerto queste cose così che nella vita normale è impossibile poterle fare, perché ma quando mai stai senza mangiare su un'isola oppure senza una lira attraversando Vietnam, Laos e Cambogia in autostop, ma non percorsi turistici, percorsi veramente alternativi, non sarebbe mai stato possibile nella vita e di conseguenza l'ho accettato volentieri e debo dire che specialmente Pechino Express è stata, anche perché fatta con mio figlio, una delle avventure, delle cose più belle della mia vita. Come dicevo prima, ti piace cambiare pelle, questa è la dimostrazione, però questo futuro di attore diciamo era già nel tuo destino prima anche che tu lo sapessi, te ne accorgesi perché sbaglio, o il tuo primo lavoro comunque aveva già a che fare con il set? Sì, assolutamente, perché comunque è sempre una forma, possiamo dire il lavoro, sì ne abbiamo parlato lì durante il servizio, fotoromanzi, è una forma di spettacolo. Certo, dobbiamo dirlo, perché vogliamo saperlo, scoprire il primo lavoro. È una forma di spettacolo e poi diciamo che grazie al fotoromanzo io poi ho fatto l'attore, perché i primi film che sono stati vai alla grande di Salvatore Samperi e Sapore di Mare numero due di Bruno Cortini, per quale motivo mi hanno chiamato e scelto come protagonista? Perché avevo una popolarità enorme dovuta ai fotoromanzi, perciò è grazie al fotoromanzo che io poi ho potuto fare. Caspita, era l'unica forma di svago e di divertimento che c'era, leggero. E allora a proposito di questo, Roberta Ferraghi ha trovato una persona che sa tutto di quando Massimo ha cominciato con i fotoromanzi, con quella bellissima foto, vediamo allora nel servizio di Riccardo Risini. Quante scene d'amore, oggi a Dio abbiamo girato qui per i fotoromanzi. Quando c'era Massimo dovevamo tenere una folla di regazione lontano perché per un autografo facevano sei a scuola, si sognava con poco e in bianco e in nero. Ciao Carlo! Ciao bella! Allora tu hai iniziato proprio con Massimo ai suoi esordi, com'era come attore di fotoromanzi? Beh Massimo a parte ha cominciato giovanissimo, era timido più che altro, quello che ricordo io, era molto giovane, si è trovato un po' spaisato all'inizio, però bravo. Bravo e bellissimo. Ma basta solo la bellezza per fare l'attore di fotoromanzi? Belli perché è una questione di estetica, il fotoromanzo, belli però poi devi sapere, pur avere qualcosa dentro, le espressioni che devi fare, ci devi mettere molto impegno. Eh certo! Ci racconti un episodio dei vostri esordi quando Massimo lavorava con te? Eh, un episodio e stavamo a Gaeta in un albergo per fare degli esterni sul mare, siamo capitani con la truppa, con una scolarisca e guarda, successo di tutto, perché bussavano alla porta, mi chiede, telefonava, salvami, qui c'è non posso uscire dalla stanza, divertentissimo e poi era timido tra l'altro. Timido e rubacuori. Certo, certo. Il servizio era di Andrea Riscoli, beh... Grande Carlo, ciao Carlo, saluto anche a Tiglio Malnati che sono i primissimi. Il tuo primo regista, ma la tua interpretazione da fotoromanzo che ti è piaciuta di più? Ah, ricordo una serie, io mi chiamavo Silvestro e facevo la gente, l'investigatore praticamente, una serie che è andata avanti per moltissimo tempo, anche perché poi la mia collaboratrice era Catiuscia, allora tu dici, chi è Catiuscia? Ai tempi era un mito dei fotoromanzi Catiuscia e Paola Pitti e mi ricordo che Grand Hotel, con una cosa che viene molto scalpore per la cifra, riuscì a togliere alla lancio Catiuscia, anche perché se li contendevano gli attori, capisci, sai quante volte ho avuto delle offerte alla lancio io ai tempi? E facevamo questa serie dove io facevo un investigatore e andò benissimo, ecco, questo è un ricordo che ho, ma parliamo di pre-storia comunque. Ma che pre-storia, da di qualche anno fa, due o tre, ma vediamo come saresti invece oggi alle prese con una scena da fotoromanzo. Massimo, vediamo se sei ancora bravo a fare le espressioni da fotoromanzo, eh? Oddio, oddio! Immaginiamo che tu stia aspettando la tua donna a un appuntamento ma non arriva. Ok, non ci sarà movimento ovviamente essendo una foto. Giustamente. L'aspetto con gioia oppure preoccupato che forse non arriverà? Entrambe le cose. Ok. Preoccupato. Perfetto, devo dire, bravo, bravo. Chissà che dirà il nostro regista. Senti, e se dovessi fare lo script nel fumetto che cosa scriveresti? Guarda che stavo così. Sta arrivando, sono certo che arriva. Eccola. E lei, e lei. Adesso la abbraccerò forte. Bravissimo, bravissimo. E passiamo a un altro amore, non l'amore della propria donna ma quello del proprio figlio, tu hai un figlio bellissimo di 24 anni. Paolo, 24 anni. Paolo, stai aspettando che arrivi per trascorrere con lui una splendida domenica. Eh, hai gli occhi che sorridono. Sì, sì, sì. Paolo è veramente il grande amore della mia vita. Eh, si vede. Fantastica. Sbaglio, ma ero sempre uguale. Ma no, erano espressioni sempre tutte diverse. Una mimica facciale, non te ne accorgi. Ok, c'erano delle... Vabbè. Ma sì, ma oggi guardando indietro, puoi dire che quel tuo primo lavoro è stato utile per la tua formazione, quindi per la tua carriera? No, come dicevo prima è stato utile perché mi ha dato la popolarità che ha fatto sì che poi mi scegliessero e mi chiedessero di interpretare i miei primi film. Perché tu come sei passato dal set fotografico a quello cinematografico? Io non avevo nessuna intenzione di far l'attore, però che cosa, a un certo punto dopo avevo fatto 15, 16... Non ci pensavi proprio, anche perché studiavi giurisprudenza, mi sembra. Esatto, 15, 16 esami giurisprudenza, a un certo punto non mi andava più a studiare, devo dire. Allora ho detto, vabbè, io ho questa grande popolarità, adesso mi iscrivo a una scuola di recitazione. La strutto. Già avevo avuto proposte per fare l'attore, per esordire in cinema, mi avevo sempre detto no. Però sai, stavo in una scuola di recitazione, al terzo giorno che stavo, facevo un giro per Roma con degli amici a Piazza Navona e chi incontro lì, Ricco Luccherini, Caglianoiusa e Salvatore Samperi, che ai tempi erano un produttore, un ufficio stampo, un regista come no, certo. mitici. E mi dico, vuoi fare il protagonista di questo film? Facevo una scuola di recitazione e potrei dire di no, sei stato veramente assurdo. E lì ho cominciato. E poi invece come si è inserita nella tua vita l'attività di agricoltore? L'attività di agricoltore che in quei tempi è stata abbinata a... ero anche imprenditore, cioè nel senso che prendevo delle case nel Lazio o in Umbria e le riattavo, le rimodernavo, le ristrutturavo. E' perché c'è stato un momento che volevo cambiare, attività complice anche un fatto che quel tipo, la tipologia di film che io facevo, Saporimare, Giochi d'estate, Chilling, eccetera, in un certo modo c'è stato un cambio di tipologia di film in Italia e perciò quei miei film venivano visti un po' come tipo commedie di serie B, salvo poi nel corso degli anni rivalutarli e anche molto. E allora ho detto, vabbè, ma dai, qui non è che c'è tutto questo lavoro, a me piace più che altro essere un organizzatore, un imprenditore, ho avuto la possibilità di cambiare totalmente vita e dedicarmi a mia azienda agricola, a mia impresa di costruzione. E poi subito dopo, come ci accennavi appunto prima, è entrata nella tua vita anche l'isola di Lampedusa. Un bel po' dopo, sì certo, dove appunto cominciava. Poi prima ho fatto anche il produttore cinematografico, ho prodotto quattro film. Vabbè, cosa è che non hai fatto allora, Massimo? Adesso ultimamente in aprile è anche uscito il libro, anche scrittore. Beh, allora, senti, io ti faccio veramente un grande in bocca al lupo per questo tuo debutto nuovo a teatro, ricordiamo il... Il 16 dicembre a Udin, un'ora di tranquillità con Massimo Ghini. Perfetto, allora grazie, grazie a Massimo Ciavarro, il cui motto è la forza di cambiare. Grazie.